Una giornata in ricordo delle vittime della strada, domani a Belvedere verranno ricordati i nostri angeli con manifestazioni a partire dalle 9.30. Una giornata fortemente evoluta dal coordinamento delle associazioni Alto Tirreno-Cosentino, dal comune di Belvedere, dalla Prologo del Tirreno, dall'UMPRI, l'Unione Nazionale Prologo d'Italia-Cosenza e Calabria, dal Consorzio delle Prologo Riviera dei Cedri e dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada Onlus. Il supporto e la partecipazione è stata garantita anche dai licei Tommaso Campanello di Belvedere e dalla Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Calabria. A guardare i freddi numeri dell'ultima statistica ISTAT, i decessi per incidente stradale continuano a diminuire. Nel 2011 è stato registrato il meno 6% rispetto al 2010 e dal 2001 i morti per incidente stradale si sono pressoché dimezzati, numeri che però non alleviano il dolore, soprattutto per chi vede spezzarsi giovani vite. Le cause sono sempre le stesse, eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, tanto che l'82% degli italiani chiede pene più severe per chi guida ubriaco o drogato, provocando incidenti mortali o gravi lesioni. Un altro 45% invece si dice favorevole all'introduzione del reato di omicidio stradale, provvedimento al vaglio del Parlamento dopo una raccolta di 58.000 firme per sostenere la legge di iniziativa popolare. A Belvedere domani sarà il giorno del ricordo al quale hanno assicurato la propria presenza il questore il prefetto di Cosenza, il senatore Antonio Gentile, il deputato Ernesto Magorno, Saverio Mirarchi, presidente FIGC, comitato regionale, oltre a sindaci e associazioni del territorio. Oltre al convegno sul tema alla pericolosità della strada statale 18, Tirreno-Cosentino, nel corso del quale sarà sottoscritto un patto per la sicurezza stradale, ci saranno testimonianze dirette di cittadini e studenti sopravvissuti a pericolosi incidenti stradali. E poi spazio allo sport, con il quadrangolare di calcio alle ore 15, tra le squadre e compagnie carabinieri di Sala Consilina, una rappresentativa locale, l'associazione Vittime della Strada e il consorzio prologo Riviera dei Cedri, umplico senza Calabria.